Abinergie è una società trader di energia elettrica e gas, nata 11 anni fa da due imprenditori bergamaschi, Alessandro Bertacchi e Matteo Alcerbis. Come tutte le società trader di energia elettrica, non potevamo fermarci solo alla vendita di energia elettrica e gas, ma dovevamo spostarci anche verso un mondo IoT. Siamo così arrivati, grazie all'idea di Alessandro Bertacchi e Matteo Alcerbis, alla costruzione di un dispositivo IoT denominato DICE, che permette la registrazione dei consumi delle persone domestiche e delle società. Le letture avvengono in 5 minuti, quindi la mole dei dati letti è veramente elevata. Per poter superire a tali volumi, si è così deciso di spostarci verso un sistema IoT stabile. Grazie all'ottimizzazione del cloud di Microsoft, ottenuta grazie all'appoggio di Porini, siamo riusciti ad ottenere un sistema fluido e veloce, in modo tale che l'applicazione collegata al DICE potesse rappresentare i dati in maniera veloce e ottimale.